Sono Francesco Turini, ho 26 anni e sono un laureando di Fisica. Mi occupo principalmente di Astrofisica. Svolgerò il mio progetto presso l'Università di Pisa al Dipartimento di Fisica e il mio tutor è la professoressa Scilla degli Innocenti. Sto lavorando a un progetto che si prefigge lo scopo di applicare il machine learning all'astrofisica stellare e ci aspetteremo di riuscire a identificare popolazioni stellari tramite l'utilizzo di machine learning. Ho scelto di fare domanda alla Borsa Gar perché mi dà l'opportunità di approfondire il tema del machine learning che è un tema ad oggi molto di punta. Grazie.